Modulo di deposito Atti e documenti Istruzioni pratiche per la compilazione Il modulo ha diverse sezioni con titolo di colore blu. Ognuna di queste va compilata nel modo appropriato. Il modulo deve essere compilato in sequenza, dall'alto verso il basso, poiché sono presenti opzioni diverse in base alle scelte precedentemente effettuate. Il modulo, parzialmente compilato, può essere salvato per poi essere completato in un secondo momento. Sono sempre possibili successive modifiche fino al momento della posizione della firma. La scelta della sede va fatta selezionando nel menu a tendina la sede in cui si vuole depositare il ricorso. Nella sezione Ricorso occorre indicare l'anno e il numero, corrispondenti al numero di registro generale del ricorso, sul quale seguire il deposito dell'atto o dei documenti. Questo dato è fondamentale, poiché il sistema informativo protocollerà automaticamente l'atto o i documenti depositati all'interno del ricorso indicato. Si suggerisce quindi di fare particolare attenzione affinché il numero indicato sia quello corretto. Il modulo distingue tra due categorie di deposito, atti di causa o documenti di causa. Gli atti di causa sono tutti i depositi di atti processuali, ovvero sia quegli atti formati e sottoscritti dalle parti a fini processuali, mentre i documenti di causa sono tutti gli altri documenti allegati al giudizio. A seconda della scelta effettuata, i successivi campi mostreranno le differenti tipologie di atti e documenti e i dati da inserire. Selezioniamo ad esempio atti di causa. Scegliere la tipologia di atto dalla lista. Nella parte iniziale della lista sono evidenziate le tipologie di atto più frequenti, per poi proseguire in ordine alfabetico. Alla fine della lista è disponibile la voce Altro, se nessuna delle tipologie elencate corrisponde a quella da depositare. Dopo aver selezionato il tipo di atto, ad esempio motivi aggiunti, allegare il documento digitale cliccando su Allega e selezionando il file da allegare già predisposto nel proprio computer. Si ricorda che il file dell'atto di causa deve essere nativo digitale, ovvero creato con un programma di redazione testi, e deve essere firmato digitalmente, come previsto dall'articolo 136,2 bis del Codice del processo amministrativo e articolo 9 del DPCM 40 2016. Per i documenti allegati non è necessario procedere alla sottoscrizione, in quanto la firma sul modulo si intende estesa a tutti gli allegati. Qualora si voglia attestare la conformità all'originale cartaceo dei documenti allegati, si deve provvedere alla relativa asseverazione sui singoli documenti. La spunta Nuovo provvedimento impugnato risulta già preselezionata. Se i motivi aggiunti riguardano lo stesso provvedimento impugnato del ricorso principale, occorre togliere la spunta. In quest'ultimo caso il contributo unificato non è dovuto. Nella sezione Elenco documenti si possono inserire gli allegati al deposito cliccando su Aggiungi. È obbligatorio l'inserimento di un foliario con l'indice dei documenti che deve essere necessariamente allegato come primo elemento. Inserire poi singolarmente gli stessi, numerandoli nella colonna Descrizione secondo il foliario allegato, ovvero digitando il progressivo e la descrizione del documento che si sta allegando e inserendo i relativi file con il pulsante Allega come l'esempio riportato. La spunta Deposito per tutte le parti difese è stata preselezionata, poiché è il caso più comune. Nel caso contrario occorre togliere la spunta e compilare tutti i campi relativi alla parte depositante. Nell'oggetto della domanda inserire il testo della domanda o del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, così come riportato nell'atto. Si possono inserire fino a 16.000 battute. Nella sezione Istanze vanno indicate le istanze contenute nel ricorso. Il modulo controlla che per ogni voce sia stata effettuata una scelta, sia in senso positivo che negativo. Nella sezione Procura alle liti, cliccando su Aggiungi, va selezionata la parte relativa o la dicitura Vale per tutte le parti depositanti. Si deve inserire poi la data in cui la Procura è stata sottoscritta e allegare il documento digitale firmato digitalmente dal ricorrente e dall'Avvocato. Se la Procura è stata data a margine o su foglio cartaceo, l'Avvocato deve digitalizzare il documento, asseverare la scansione e firmare digitalmente l'atto prima di allegarlo al modulo di deposito. Per l'inserimento delle notifiche occorre cliccare su Aggiungi, compilare i campi, parte notificata, data di notifica e modalità PEC o altro, UNEP, Posta. Nel caso di notifica a mezzo PEC, occorre allegare la ricevuta di consegna, in forma completa, del messaggio PEC inviato alla parte. Nel caso altro, allegare la copia notificata del ricorso. In presenza di numerose notifiche in formato altro, utilizzare il bottone Allega copia notificata. L'atto notificato e i documenti relativi a tutte le notifiche possono essere inseriti scansionati in questo campo, in un unico file, valevole per tutte le notifiche di tipo cartaceo. Nella sezione Contributo unificato, occorre selezionare una delle tipologie previste. Se si sceglie prenotazione a debito, in attesa di ammissione patrocino a spese dello Stato, oppure non dovuto, non è necessario inserire altre informazioni. Se si sceglie la voce esente, si apre una tendina per indicare la tipologia di esenzione. Se si sceglie non esente e il pagamento non è stato ancora effettuato, non è necessario fornire altre informazioni. Se invece il pagamento è stato eseguito, premere Aggiungi per inserire i dati del versamento. Allegare poi la scansione del documento attestante il pagamento, completa dell'attestazione di conformità. L'originale cartaceo deve essere comunque conservato, in quanto le segreterie possono richiedere di esibire l'originale cartaceo del versamento. Vi mostriamo ora un esempio di deposito atti selezionando la tipologia Ricorso incidentale. Allegare il ricorso incidentale in formato nativo digitale firmato, cliccando su Allega e selezionare il file nel proprio dispositivo. Nella sezione Elenco documenti si possono inserire gli allegati al deposito cliccando su Aggiungi. È obbligatorio l'inserimento di un foliario con l'indice dei documenti, che deve essere necessariamente allegato come primo elemento. Inserire poi singolarmente gli stessi, numerandoli nella colonna Descrizione secondo il foliario allegato, ovvero digitando il progressivo e la descrizione del documento che si sta allegando e inserendo i relativi file con il pulsante Allega come l'esempio riportato. Nella sezione Parte depositante, selezionare una delle tipologie previste e cliccare su Aggiungi. Compilare inserendo Cognome, Nome e Codice fiscale. Nel caso in cui non si disponga di un codice fiscale per quella parte, selezionare la casella No codice fiscale. Si possono inserire più parti cliccando di nuovo su Aggiungi, compilando tutti i campi o eliminare le righe aggiunte cliccando sulla X. Non si possono lasciare i campi vuoti non compilati. Nel caso di tipologia minore incapacità, occorre inserire il nome e cognome del soggetto nella scritta precompilata. Inserire i dati del difensore o dei difensori. La casella PEC deve essere nominativa e corrispondere a quella risultante dai pubblici elenchi Reginde. Altri difensori possono essere aggiunti al collegio di difesa attraverso il bottone Aggiungi. Si seleziona la spunta Difesa in proprio se il ricorrente assume la difesa in proprio. Il domicilio può essere eletto presso lo studio di un avvocato oppure, fino al 31 dicembre 2017, anche presso un domiciliatario non avvocato. Non è più ammessa l'elezione di domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario a dito. Si deve poi indicare a chi saranno inviate le comunicazioni relative al processo e indicare obbligatoriamente anche un numero di fax. Le sezioni oggetto della domanda, istanze, procura all'eliti, notifiche e contributo unificato vanno compilate come l'esempio riportato, seguendo le indicazioni già date in precedenza. Proseguire quindi con la posizione della firma e con l'invio telematico del modulo, come previsto dal DPCM numero 40 del 16 febbraio 2016. Mediante il modulo Atti è sempre possibile depositare successivamente il documento attestante la ricevuta del versamento, selezionando da Atti di causa la tipologia Contributo unificato, come appare nell'esempio riportato. In questo caso, oltre ai dati relativi al pagamento effettuato, deve essere indicato anche il numero di protocollo dell'atto al quale il versamento si riferisce. Tale numero di protocollo, rinvenibile nell'elenco atti del fascicolo di causa, è costituito da 10 cifre ed occorre quindi inserire gli zeri necessari dopo l'anno di riferimento. Allegare poi la scansione del documento attestante il pagamento, completa dell'attestazione di conformità. L'originale cartaceo deve essere comunque conservato in quanto le segreterie possono richiedere di esibire l'originale cartaceo del versamento. Proseguire quindi con la posizione della firma e con l'invio telematico del modulo, come previsto dal DPCM numero 40 del 16 febbraio 2016. Dopo aver descritto alcuni esempi di deposito di atti di causa, vi mostriamo le modalità di compilazione del modulo se si seleziona la scelta Documenti di causa. Scegliere la tipologia dalla lista, ad esempio Documenti. Per questa tipologia occorre allegare il foliario, ovvero l'indice dei documenti che sono depositati. Nell'elenco Documenti inserire singolarmente la descrizione, numerandoli secondo il foliario allegato e inserendo i relativi file con il pulsante Allega come l'esempio riportato. Se il deposito Documenti è un prosieguo di un elenco di documenti, già in parte depositati con un precedente invio, occorre allegare comunque il foliario completo e la descrizione dei singoli allegati deve ripartire dal numero successivo all'ultimo documento indicato nel primo invio. Quindi, se ad esempio erano già stati depositati due documenti, iniziare la descrizione con Allegato 3 come l'esempio in figura. La spunta deposito per tutte le parti difese è stata preselezionata, poiché è il caso più frequente. Nel caso contrario, occorre eliminare la spunta e compilare tutti i campi relativi alla parte depositante. È possibile, tramite la sezione Notifica, allegare le eventuali notifiche inviate alle parti. Al momento della posizione della firma, si attiva un controllo sui dati inseriti e viene segnalata l'eventuale mancata compilazione dei campi obbligatori. Se i controlli hanno esito positivo, si attiva la procedura di firma digitale. Avvertenze finali. Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 1 gennaio 2018, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli iscritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, ai sensi dell'articolo 7,4 DL 31 agosto 2016, numero 168.